Tre mesi di screening su un campione di bambini delle scuole materne d'Abruzzo per testare i disturbi dell'apprendimento nell'età evolutiva ed avere un quadro della situazione che possa venire incontro a genitori insegnanti. Sono diverse le linee evolutive che possono essere colpite, in particolare le difficoltà linguistiche che possono poi essere ulteriormente specificabili se sono difficoltà specifiche di linguaggio oppure di matrice di determinazione più culturale e ambientale. Difficoltà nel movimento o nello sviluppo delle competenze di passaggio ai prerequisiti, ai sistemi di lettoscrittura e calcolo per la scuola primaria. Un genitore cosa può fare per vedere e per cercare di capire se anche il proprio figlio ha qualche difficoltà di apprendimento? Il genitore dovrebbe dare uno sguardo alla totalità del bambino. La prima considerazione da fare è che non deve solamente guardare all'intelligenza del bambino ma anche all'uso che quel bambino fa della sua intelligenza. Alcune fragilità evolutive derivano non tanto dal quotiente intellettivo come noi psicologi solitamente intendiamo ma derivano dalla capacità del bambino di regolare le sue competenze rispetto alle proposte formative cioè di dedicarsi all'attività, di dedicarsi al compito, di prestare attenzione alla lezione. La Regione Bruzzo promuove anche l'intervento di attività di cancelling che prevede l'introduzione di figure specializzate nel trattamento dei disturbi dell'età evolutiva. Non lasciamo da soli nelle maestre, naturalmente nelle famiglie, ma questo progetto è stato proprio fatto proprio per prendere in tempo le situazioni, quindi dico alle famiglie di non spaventarsi perché questa insorgenza, questa scoperta precoce serve proprio per mettere in atto degli strumenti per correggere velocemente dei disturbi che possono essere corretti.